In studio Giada Giacquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a METG. Come avete sentito dai nostri titoli, l'eliminazione dello stato d'emergenza sanitaria e quindi regole meno stringenti previste dall'ultimo decreto del governo potrebbero aiutare il settore del turismo. Ne sono convinti gli addetti ai lavori. C'è tanta attesa per il settore turistico e per un'auspicata ripartenza. L'allentamento delle misure legate al Covid infatti fa bene sperare gli operatori del settore che guardano i prossimi ponti di primavera ma soprattutto all'estate con ottimismo. Le nuove regole, che vogliono aiutare dunque anche il comparto turistico, prevedono che non debba più essere esibito il Green Pass nelle strutture ricettive, così come non serve per bar e ristoranti all'aperto, serve invece per bar e ristoranti al chiuso. Per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza, come navi, treni e aerei, viene richiesto il Green Pass base con obbligo di indossare la FFP2. Anche questo potrà facilitare gli spostamenti e far ripartire il turismo. Grazie al calo delle restrizioni sicuramente molte più persone saranno invogliate a visitare la Sicilia e quindi il settore del turismo incoming per la Sicilia subirà sicuramente un grande incremento, soprattutto per l'estate. Infatti non si prevede di raggiungere i livelli pre-pandemia nell'immediato, però sicuramente si potranno raggiungere degli ottimi risultati, soprattutto a partire da giugno fino a settembre. L'alta stagione ci permetterà di accogliere tantissimi turisti in arrivo non solo dall'Italia, ma anche da varie parti d'Europa e anche, perché no, da varie parti del mondo, come gli Stati Uniti. Tra l'altro si prevede anche l'abolizione possibile del Green Pass. Questo può facilitare ancora di più i flussi turistici? Questo sicuramente aiuterà perché contribuisce a un ritorno alla normalità, sia dal punto di vista burocratico, quindi sia dal punto di vista dei documenti e di tutto ciò che bisogna preparare prima del viaggio, ma anche da un punto di vista probabilmente morale aiuterà a comprendere che probabilmente siamo alla fine della pandemia e quindi sicuramente aiuterà una ripresa dell'umore e del turismo in ingresso. Ci sono delle destinazioni che hanno quasi del tutto abolito ogni tipo di restrizione, mentre ci sono delle destinazioni come il Giappone che ancora non ha riaperto dal turismo e quindi non si può proprio andare se non per altri motivi. Guerra in Ucraina in particolare per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. La Caritas di Acireale ha inviato alla Caritas nazionale un bonifico da 16.000 euro raccolti grazie all'aiuto delle parrocchie del territorio accese allo scopo di aiutare i rifugiati. A Monte a 16.000 euro la prima tranche di aiuti inviati dalla Caritas di Acireale alla Caritas italiana. La raccolta di questi fondi è frutto di un'attività svolta nelle comunità parrocchiali e serve a sostenere l'accoglienza dei profughi ucraini. Il Vescovo della Dioce di Acireale, Monsignor Antonio Raspanti, chiede ulteriore vicinanza e prossimità al popolo ucraino. Ringrazio profondamente tutti quelli che ci hanno beneficiato, più che me, le persone attraverso il bonifico. Desidero dire che questa è soltanto una parte dell'inizio e dobbiamo un poco continuare, naturalmente capendo che è quello che succede. Lì sempre di più c'è bisogno di interventi spesso sanitari, spesso profondamente umanitari, nei confronti dei bambini, delle famiglie, delle donne. Quindi l'emergenza non finisce qui e non siamo nemmeno alla fase della ricostruzione, quello poi vedremo cosa accadrà in futuro. Però è necessario, più che nei vivi e nelle cose materiali, ci continuano a dire che è necessario intervenire soprattutto dove loro si rifugiano. Anche Polonia, Repubblica Ceca, Moldavia, Slovacchia, Bulgaria, Romania e le Repubbliche Baltiche. Quattro milioni sono lì. Questo significa che non finisce qui e continueremo in un modo o in un altro, sia con la preghiera, infatti credo che la Domenica delle Palme in tutta Italia, che in un modo o che in un altro, eleveremo preghiere per la guerra e per la Russia, per così dire, che aggredisce e l'Ucraina che è aggredita. E poi naturalmente continueremo con gli aiuti umanitari. È ancora possibile dare il proprio sostegno economico negli uffici della Caritas di Via Galatea 224 ad Acireale, oppure tramite un bonifico bancario intestato proprio alla Caritas di Ocesana di Acireale. E a proposito del supporto per quanto riguarda la popolazione in sofferenza e in difficoltà a causa della guerra, è prevista grande partecipazione per la manifestazione per la pace prevista per lunedì pomeriggio a Comiso. Il corteo si snoderà dalla via San Biagio fino ad arrivare in piazza Fonte Diana. È tutto pronto per la manifestazione di pace che si svolgerà lunedì a partire dalle 16.30 a Comiso, dal parco urbanistico dell'Ippari, attrezzato con servizi messi a disposizione dell'amministrazione comunale di Comiso. Poi si snoderà il corteo lungo la via San Biagio fino ad arrivare in piazza Fonte Diana. L'appuntamento nel quarantesimo anniversario della storica marcia alla quale partecipò anche Pio Latorre, ucciso dalla mafia 26 giorni dopo, anche per le sue battaglie pacifiste. A 40 anni dunque dalla marcia contro l'installazione dei missili cruise per la smobilitazione degli SS-20 del patto di Varsavia, questa volta si scende in piazza contro la guerra in Ucraina. La manifestazione vedrà la presenza di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, comuni isolani, con in testa Palermo, ancora associazioni di categorie, volontariato, consulte sociali provenienti da ogni angolo della Sicilia. In piazza anche gli studenti delle scuole superiori della provincia di Ragusa. E adesso la politica, PD, Movimento 5 Stelle, 100 Passi, stanno lavorando alle primarie per decidere il candidato alla presidenza della regione siciliana. La data è ancora da stabilire, ma intanto i leader dei partiti si stanno organizzando. Il Via Libera lo darà Giuseppe Conte, ma nel Movimento 5 Stelle sono in tanti che da tempo condividono l'idea di scegliere con le primarie il candidato governatore in Sicilia. Idea condivisa anche da Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia e deputato dei 100 Passi a Lars. Apprezzo molto le parole del segretario regionale del PD, scrive Fava, d'accordo con lui, per primarie del centro-sinistra, prima della pausa estiva. Saranno anche un'occasione per rinsaldare lo spirito e gli obiettivi della coalizione, governare la Sicilia, chiudendo l'esperienza opaca e deludente della giunta Musumeci, dichiara Fava. Per Dino Giorrus, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, è la soluzione migliore, così come dichiara l'ANSA. Prima però bisogna stabilire il perimetro della coalizione, per capire quanto larga dovrebbe essere scrivere il programma e definire i criteri per la composizione delle liste, per evitare di trovare magari qualche candidato con precedenti penali. Per Giorrus dovrebbero essere gli iscritti al Movimento 5 Stelle a pronunciarsi sulle primarie di coalizione, e se il PD propone come data per le primarie la prima settimana di luglio, per Giorrus sarebbe meglio la prima settimana di giugno, e comunque prima delle elezioni amministrative, perché aggiunge, sarebbe un modo per animare l'elettorato progressista in una fase in cui il centrodestra è a pezzi. L'assessore alle attività produttive del comune di Catania, Ludovico Bassamo, lascia la giunta. Ieri in una lunga nota Bassamo ha spiegato di aver concluso il proprio lavoro legato all'estensione delle concessioni del suolo a tutto il territorio catanese fino al 30 aprile, consegnando al Consiglio Comunale il regolamento che potrà esitare. Bassamo fa sapere che non condivide l'orientamento relativo all'applicazione della direttiva Bolkestein in merito al rinnovo dei suoli pubblici del mondo degli ambulanti, e critica il fatto che il suo ufficio abbia poco personale, che non può gestire l'importante mole di lavoro. E adesso torniamo a parlare del caso dei lavoratori, degli acquaioli, del Consorzio di Bonifica, perché arrivano buone notizie. Dopo le nostre numerose sollecitazioni, il commissario straordinario dell'ente, il dottor Francesco Nicodemo, ci ha dato notizia stamattina che ieri, in occasione di un incontro con la banca, è stato chiesto un extrafido da 300 mila euro, somme che servirebbero a pagare una parte di arretrati. Stiamo chiedendo un extrafido perché le casse del Consorzio non sono sufficienti. Appena la banca darà l'ok, e concorderemo appunto qua all'ammontare, avvieremo procedure per il pagamento di parte degli emulamenti dei dipendenti. Questi fondi serviranno a pagare indegnità chilometriche, turnazioni straordinarie e arretrati. Altra buona notizia, aggiunge Nicodemo, stiamo impegnando altri 25 mila euro per pagare la parte corrente, e inoltre è stato sbloccato un finanziamento importante da parte del Ministero, di cui però ancora non possiamo comunicare dettagli. Dice infine il Commissario, un segnale importante, nonostante la crisi finanziaria in cui versa l'ente, una crisi che però si trascina da anni. E parliamo adesso di un'altra situazione, quella dei lavoratori dei teatri di Palermo, in particolare, oltre al Biondo, il Teatro Massimo, perché si susseguono gli incontri e le manifestazioni per far sentire la voce dei lavoratori e degli artisti. A rischio anche la stagione, una situazione che ancora è tutta in divenire. Intanto è stato firmato dal Direttore Generale del Ministero della Cultura il decreto di liquidazione della prima tranche del FUS, il fondo unico per lo spettacolo destinato alla fondazione del Teatro Massimo per il 2022. Oggi intanto una manifestazione prevista per le 17. Ci sono novità significative per il Teatro Massimo di Palermo. È stata infatti erogata la prima tranche del FUS, il fondo unico per lo spettacolo, destinato alla fondazione del teatro per il 2022. Restano però grandi difficoltà di Regione e Comune di Palermo. Anche se in realtà pare sia in arrivo da parte del Comune la liquidazione di 500 mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno versata nei primi mesi del 2022 e l'anticipo del finanziamento da parte della Regione siciliana. La situazione quindi non si può considerare risolta e si susseguono incontri e manifestazioni. Una situazione che accomuna anche il Teatro Biondo. Indetta dai sindacati, S.L.C.C.G.L., Fistel Cisle, Wilcom Wille, Fialz Cisal, una mobilitazione per oggi. Manifestazione di cui si è parlato nel corso di una conferenza stampa nel foyer del Teatro Massimo alla presenza tra gli altri della direttrice del Teatro Biondo e del sovrintendente della fondazione Teatro Massimo. Il cuore del Teatro Massimo è la musica. Il cuore del Teatro Massimo sono i suoi lavoratori, il pubblico, la gente. Abbiamo le notizie da parte del Sindaco di questa manovra per salvare i nostri teatri e siamo qui per resistere e combattere a favore della cultura. I sindacati si dichiarano preoccupati per i tagli rispetto al contributo che era previsto dal Comune per il 2021 e l'incertezza per il 2022. Il Teatro Massimo riceve praticamente un taglio del 75% su base biennale. Nel 2021 è arrivato il contributo da parte del Comune di 2 milioni e 9 e sul 2022 c'è una grande incertezza. Si parla di un milione e mezzo a fronte di due e due imprevisti in bilancio. Sulle iniziative dei sindacati c'è anche il malcontento di Libersin Consal la cui referente è Monica Piazza. Perché, dice la piazza, non siamo firmatari di un contratto nazionale di categoria, un contratto scaduto da ormai 16 anni, però chiudiamo i tavoli di trattativa con la fondazione. Una incoerenza. Inoltre la piazza dichiara ancora di non aver ricevuto i report richiesti dalla fondazione per quanto riguarda i costi delle consulenze e il bilancio previsionale del 2021. Il sistema sanitario della regione siciliana sta soffrendo di una grave crisi per quanto riguarda la crisi dei cosiddetti medici di famiglia. Il rischio è che presto molti siciliani rischieranno di non avere la figura medica di riferimento. La denuncia arriva dall'onorevole Nello Di Pasquale, parlamentare regionale del PD a Lars, a fronte degli oltre 3.000 medici che andranno in pensione nel 2028, così come riportano alcune statistiche, dice Di Pasquale, non corrispondono nuovi ingressi di professionisti. Di Pasquale ha inviato quindi una nota all'assessore regionale alla salute Razza per chiedere una deroga al numero massimo di pazienti che può avere in carico un medico di base. E cambiamo argomento perché c'è rabbia tra molti cittadini che hanno perso la propria casa a causa del sisma del 26 febbraio del 2018, il cosiddetto sisma di Santo Stefano. Nonostante infatti sia già stata formalizzata la proroga dello stato d'emergenza fino a tutto il 2022, ancora dalla Protezione Civile di Roma non arrivano i fondi per pagare gli affitti delle case dove sono stati costretti ad abitare avendo perso le proprie. Era la notte tra il 25 e il 26 dicembre del 2018 quando la terra tremò in provincia di Catania. Tantissimi paesi che vennero coinvolti nella zona di Acireale ma anche di Zafferana, di Fleri, di Santa Venerina. A più di tre anni di distanza ancora ci sono difficoltà per ricostruire le case perché l'iter nazionale è lento ma la cosa più grave è che in questo momento da sei mesi sono fermi i contributi che arrivano alla Protezione Civile nazionale per quanto riguarda gli affitti e i coordinamenti dei cittadini si lamentano proprio di questo hanno bisogno di questi soldi perché non si può più arrivare a fine mese. I danni sono evidenti perché la palazzina va demolita e ricostruita perché hanno trovato dei danni nei pilastri perciò non può sostenere il peso della palazzina. Il problema è che non arrivando soldi dobbiamo mettere soldi di tasca cioè un mese va bene ma sei mesi già e non è la prima volta a tre anni che questo problema sussiste. Io tra l'altro sono in pensione da poco con una pensione che supera proprio di poco i mille euro e già dovendo ne pagare quasi 500 di affitto più gli impegni economici che uno prende proprio per la consapevolezza di essere proprietario di casa e non dover affrontare nessuna spesa di affitto mi trovo in grossissime difficoltà ma grosse davvero. Quanto è il contributo che gli arriva mensilmente? Il contributo per me è di quasi 700 euro perché con me vive un mio fratello disabile però già appunto nonostante questo è sempre comunque un problema e una difficoltà. Dall'altro lato è lento l'Itera anche per la ricostruzione? Sì, è lento perché si devono affrontare una miriade di pratiche burocratiche c'è anche da dire che rispetto ai terremoti che ci sono stati in centro Italia forse la cosa è andata leggermente più spedita ma in ogni caso se è sempre troppo lento perché a tre anni di distanza dal sisma ancora sono pochissime le persone che hanno potuto iniziare i lavori per la riparazione o addirittura per la ricostruzione. Voi chiedete all'Ufficio Nazionale della Protezione Civile di stanziare queste somme perché sei mesi di ritardo sono inconcepibili perché nel frattempo si accumulano altre spese. Sicuramente noi abbiamo fatto una serie di pressioni anche a livello nazionale perché il problema che abbiamo in questo momento nasce lì manca il trasferimento di questi fondi alla Protezione Civile Regionale che poi distribuisce ai terremotati però sono passati sei mesi la richiesta è stata fatta già a dicembre e mi sembra scandaloso che dopo sei mesi ancora non abbiamo notizie. Incontro sui lavori di dragaggio del Porto Piccolo di Pozzallo una riunione operativa alla Capitaneria di Porto per il sindaco di Pozzallo a Matuna non si può più perdere tempo i pescatori e gli operatori i titolari dei puntili galleggianti hanno manifestato tutto il loro disagio. Riunione operativa alla Capitaneria di Porto di Pozzallo sulla questione dell'insabbiamento del Porto Piccolo che ha creato gravissimi disagi ai pescatori e agli operatori dei puntili galleggianti. Alla riunione hanno partecipato il comandante della Capitaneria di Porto Donato Zito e ancora l'ingegnere Teresi dell'assessorato regionale alle infrastrutture il dottore Aldo Vernengo dell'Art l'ingegnere Giordano che è il progettista incaricato e il sindaco di Pozzallo Roberto a Matuna un incontro che è stato preceduto da diverse interlocuzioni del comandante Zito e del sindaco di Pozzallo con l'assessore regionale Falcone il sindaco Roberto a Matuna ha preteso dalle autorità regionali tempi rapidissimi sull'inizio dei lavori di dragaggio Quindi io ho preteso come comune di Pozzallo insieme al comandante della Capitaneria di Porto Zito che si formalizzasse una somma urgenza è venuto una somma urgenza è venuto a Pozzallo un funzionario della regione l'ingegnere Teresi che si è reso conto della drammaticità della situazione che si sta vivendo nella struttura portuale piccola l'ingegnere Teresi ci ha promesso che entro martedì presenterà un progetto di somma urgenza occorrono delle somme quindi mi sono impegnato io a telefonare all'assessore Falcone e al direttore generale dell'assessorato regionale alle infrastrutture a reperire le somme indispensabili e necessarie prima che inizi la stagione estiva durante il sopralluogo si è avuta la possibilità di interloquire con una rappresentanza dei pescatori e degli operatori titolari dei pontili galleggianti che hanno manifestato tutto il loro disagio ai partecipanti al tavolo tecnico già abbiamo pronto un progetto esecutivo grande di 40 milioni di euro che sarà inviato entro questo mese a Roma per la valutazione di impatto ambientale e sono in attesa di un porto i 106 migranti a bordo della CIA4 il sindaco di Palermo Orlando è pronto ad accoglierli Palermo è pronto ad accogliere i 106 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale che si trovano a bordo della CIA4 a dirlo è il sindaco Leo Luca Orlando la CIA ha salvato 74 persone di cui 22 bambini insieme alle persone soccorse martedì da una nave porta container sulla CIA4 ci sono complessivamente 106 persone in cerca di un porto Palermo è pronta ad accoglierli non c'è tempo da perdere si difenda la vita ha detto ancora Orlando l'ultimo soccorso per la nave umanitaria dell'ONG tedesca è avvenuto mercoledì scorso quando l'equipaggio ha rintracciato un gommone con 74 persone di cui 22 bambini per cui aveva lanciato l'SOS Alan Fon 15 naufraghi hanno dovuto fare ricorso alle cure nell'infermeria di bordo i profughi provengono da Egitto Nigeria Sudan e Siria insieme a loro altri 32 salvati dal mercantile Carina e presi a bordo dall'equipaggio della CIA la nave che nelle scorse ore ha fatto rotta verso Malta non avrebbe però ricevuto alcuna risposta alla richiesta di SOS da parte delle autorità della Valletta che al contrario avrebbero invitato l'equipaggio a rivolgersi al proprio stato di bandiera la Germania incidente autonomo intorno alle 13 incontrata di Chiara in territorio di Chiara Montegulfi una donna vittoriese di 70 anni ha perso il controllo del proprio mezzo che si è ribaltato sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia stradale e il personale del 118 per le ferite riportate la donna è stata trasportata in risoccorso all'ospedale Canizzaro di Catania e adesso ci fermiamo per la pubblicità a tra poco ben trovati in studio oggi giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo iniziativa a Pozzallo animazione bolle di sapone popcorn e zucchero filato un falconiere con una splendida poiana una grande festa questa mattina per regalare momenti di spensieratezza ai bimbi assistiti nei centri di riabilitazione del CSR di Comiso Modica Pozzallo e Ragusa e alle loro famiglie in collaborazione con l'istituto Comprensivo Amore un'iniziativa in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo organizzata dal consorzio siciliano di riabilitazione diretto dal presidente Sergio Rotrovato e dal direttore sanitario Giovanna Di Falco momenti come questi sono fondamentali tant'è vero che oggi abbiamo voluto coinvolgere tutti i bimbi nostri non solo i nostri bimbi autistici perché per noi oggi è una giornata di festa che non è solo oggi perché il bambino autistico è autistico 365 giorni i centri si distinguono nel trattamento intensivo e precoce dell'autismo grazie a una convenzione con l'ASP che permette di prendere in carico bambini anche piccolissimi intervenendo anche nella fascia dai 0 a 6 anni grazie a una bellissima convenzione con l'ASP di Ragusa noi abbiamo questi bambini da 0 a 6 anni in trattamento intensivo precoce in trattamento comportamentale con degli operatori che sono qua formati abbiamo più di 100 bambini autistici in trattamento in provincia di Ragusa poi abbiamo quelli da 6 a 12 anni e da settembre c'è un centro di urno che è dedicato a loro bambini da 12 a 18 anni i momenti di integrazione e le attività sono fondamentali perché si raggiungono risultati importanti per i bambini e anche per le loro famiglie la CSR qui di Pozzallo ne ho due due gemellini Andrea e Simone tra cui uno di loro autistico abbiamo fatto tantissimi progressi e loro che seguono la scuola comunque dottori che si mettono a contatto con la scuola quindi io mi trovo benissimo loro sono molto disponibili siamo una famiglia anche perché noi mamme comunque genitori a casa che ci sentiamo insomma ci sono tante emozioni e tanti dispiaceri e vanno aiutati sono bambini che hanno bisogno di farsi conoscere perché non sono solo bambini con delle diversità sono bambini che danno un affetto un amore incredibile lo stare insieme è importantissimo stare insieme comunicare parlare socializzare abbiamo passato un periodo un po' brutto questo ci ha penalizzati ci ha penalizzati molto e in occasione di questa giornata un'iniziativa anche al Principi Grimaldi di Modica organizzata e voluta dal Chivanis Club l'istituto Principi Grimaldi di Modica protagonista insieme al Chivanis Club per un'iniziativa di sensibilizzazione ma anche di coinvolgimento degli studenti nella giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo questa mattina conferenza nell'Aula Magna la presenza di due classi del secondo anno per una didattica inclusiva volta al superamento di barriere mentali e fisiche ad illustrare nei dettagli le finalità del progetto Antonio Davi presidente Chivanis Club Modica noi abbiamo ritenuto che fosse importante focalizzare questo problema perché molte volte non se ne parla è importante che ci sia un momento di riflessione nella società per cui c'è un esempio valido di integrazione tra la scuola e il lavoro e questi ragazzi sono delle risorse come tale dove dobbiamo considerarle tante le iniziative portate avanti dal Chivanis abbiamo una missione che è quella di servire i bambini e di cercare di rendere migliore la comunità e i bambini che la compongono importante per il disturbo dello spettro autistico la diagnosi precoce noi siamo e abbiamo numeri molto significativi per quanto riguarda la diagnosi precoce in provincia di Ragusa lo diciamo con orgoglio siamo oltre l'80% questo grazie alla collaborazione alla sinergia con i pediatri di libera scelta ad essere coinvolti nel progetto del bar didattico Luca e Carlotta è un'iniziativa che rientra nel PCTO sei bravo a fare il barista vuoi diventare un barista? anche però mi piace di più cucinare i gnocchi con il pesto la lonza tutto quello che mi piace a me e allora in bocca al lupo? sì allora in bocca al lupo anche tu sei una brava barista Carlotta sì cosa ti piace preparare? il caffè il dirigente scolastico del Principi Grimaldi Bartolomeo Saitta sottolinea l'importanza del progetto il concetto fondamentale è che questi ragazzi dovremmo la scuola dovrebbe mandarli fuori in aziende praticamente lo sbaraglio abbiamo pensato invece di utilizzarla all'interno della scuola in maniera tale che sia un ambiente piuttosto protetto e soprattutto inclusivo e la città di Modica è la quarta in Sicilia ad aver assegnata la bandiera Lilla sul balcone di Palazzo San Domenico sede del comune di Modica da ieri pomeriggio sventola la bandiera Lilla che premia e supporta i comuni che prestano una particolare attenzione a favorire il turismo da parte delle persone con disabilità il progetto bandiera Lilla è nato nel 2012 la bandiera viene assegnata a quei comuni che hanno adempiuto agli obblighi morali ed etici di rendere un luogo accessibile alle persone con disabilità numerosi sopralluoghi da parte degli organi preposti della bandiera Lilla per verificare se i canoni previsti per l'assegnazione siano stati rispettati la valutazione inizia da un questionario online se è positivo si prosegue con le analisi sul territorio compiute dagli esperti così appunto come è successo per la città di Modica che ha superato l'esame devo dire che ho trovato una città che ha saputo fare di quella che noi consideriamo una ottima gestione cioè la progettazione accessibile un uso normale quella che è diventata ormai per Modica una routine tutto quello che io ho visto si rivela progettato con criteri di accessibilità e di inclusione che non troviamo sicuramente in tutte le città d'Italia la cosa che aumenta ancora questo valore è il fatto che buona parte di questa accessibilità e inclusione sono state realizzate all'interno di edifici storici che non sono di facile modifica se poi aggiungiamo gli impianti sportivi le zone di vita normale delle persone dal centro storico possiamo dire che più o meno tutto quello che poteva essere reso accessibile o è stato già reso accessibile oppure ci sono progetti in atto bene questo è proprio quello che noi cerchiamo dai comuni Lilla in Italia attualmente sono solo 28 le città che possono definirsi Lilla Modica e la Quarta in Sicilia e voglio ringraziare veramente di cuore tutti i miei collaboratori dal primo all'ultimo questo riconoscimento nato da un durissimo lavoro durato tanti anni di investimenti che sono stati fatti capillare sul territorio e sono contento veramente che tutta l'organizzazione del presidente Bandiera Lilla di persona ha potuto constatare quello che è stato l'intervento su tutto su tutto il territorio Paola Gasman e Ugo Pagliai coppie inossidabile sul palco ma anche nella vita saranno protagonisti dell'originale profonda e riverente rilettura dell'opera Romeo e Giulietta di William Shakespeare in scena oggi e domani al teatro Garibaldi di Modica per il penultimo appuntamento della stagione di prosa 2021-2022 lo spettacolo è per le 21 di questa sera e domani alle 18.30 biglietti al botteghino e online e con questo è tutto grazie per averci seguito buon pomeriggio grazie a tutti